Match point salvezza fallito dal team Altamura che sul terreno del Tonino D'Angelo cede le armi con il punteggio di 2-0 alla compagine Campana del Nola che spugna con merito l'impianto murgiano dopo una gara con poche emozioni e che ha visto la squadra di Mister Di Benedetto in evidente difficoltà incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Prima frazione molto tirata, il primo pericolo è di marca bianco-rossa al quarto con la punizione dalla tre quarti di tazza e il colpo di testa di Lorusso che si spegne fuori. Risponde al 22esimo il Nola con il tentativo in rovesciata di Di Dato. Spina si fa trovare pronto e blocca al 42esimo. Conclusione di Ruggero che termina alta sopra la traversa tra poche emozioni e tanti sbadigli. Il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa ci si aspetta qualcosa in più dei murgiani ma sono gli ospiti a prendere le redini della sfida. All'ottavo ci prova Campora ma la difesa di casa riesce a rifugiarsi in corner. Al 21esimo il Nola passa. D'Angelo parte sulla sinistra e mette al centro dell'aria in mischia e caliendo il più lesto di tutti a depositare in rete. Il gol non scuote l'altamura che fatica reagire. Tanti i cambi e Murgiani finalmente in avanti al 37esimo con il colpo di testa di Tedesco che termina di poco a lato. A tre minuti dal novantesimo gli ospiti per ora doppiano. D'Angelo il migliore dei suoi parte sulla destra. Si accentra e serve Stajano che non può sbagliare davanti a Spina. 0-2 e Murgiani che provano il tutto per tutto nel finale. Al 44esimo il colpo di testa di Massari su cross di Clemente termina fuori. Stesso destino per il destro di Ziello al 47esimo e l'inzuccata di Molinaro al 49esimo. Finisce 2-0 per il Nola ormai ad un passo dalla salvezza. Appuntamento rinviato invece per l'altamura che domenica prossima sempre al D'Angelo ospiterà il Bisceglie.